Campania. C'è anche un pezzo di campania nella medaglia d'oro dell'Italia femminile del volley. Monica De Gennaro, detta Moki, è salita insieme al resto del magico team femminile del volley italiano sul gradino più alto del podio olimpico. Monica Di Piano di Sorrento, 37 anni, ha così coronato probabilmente la sua ultima partecipazione olimpica nel più straordinario dei modi, vincendo l'oro. Anzi, vincendo il primo oro olimpico nella storia della nazionale femminile di pallavolo. Per arrivare in finale Monica e compagne hanno dovuto superare la Turchia del CT Daniele Santarelli, suo marito e suo allenatore a Conegliano, in un match dalla fortissima tensione emotiva. L'incontro disputato contro gli Stati Uniti alla Paris South Arena, è terminato con un netto 3-0.